Siamo negli studi di Ascanews con il nuovo presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Si è insediato ufficialmente alla guida di Federalimentare. Quali sono gli obiettivi del suo mandato, le linee guida per i prossimi 4 anni? Noi siamo leader nel mondo sul cibo, è una cosa che mi rende orgoglioso. Dopo la Ferrari, il cibo è il brand più conosciuto al mondo. L'incremento del turismo in questo paese dipende anche dalla capacità nostra di offrire un cibo che per il turista che arriva da noi è interessante. Per grandi proclami non ne voglio fare, bisogna stare con i piedi per terra, è un momento difficile. Non solo nel nostro paese, contrariamente a quello che pensano i nostri cittadini, ma in tutto il mondo. Noi soffriamo ancora di più, quindi il piedi per terra vuol dire cercare di aggredire sempre di più i mercati emergenti e quindi l'export sul quale noi dobbiamo fare qualcosa, però purtroppo da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno di essere accompagnati. E faccio una premessa, quando dico così, di solito chi fa il mio mestiere in altre associazioni è perché allude ad avere qualche contributo di carattere economico. Non è così. Noi abbiamo bisogno di assistenza di carattere politico. C'è un mercato come la Cina dove esistono delle protezioni a secondo degli stati per qualche nostro prodotto e la politica può intervenire con degli accordi anche bilaterali o addirittura regionali come ha fatto la regione Emilia-Romagna per quel che riguarda alcuni prodotti alimentari. Mi aspetto un grande contributo in questa direzione perché noi rappresentiamo la seconda manufattura di questo paese. Riteniamo che dovremmo essere tutelati maggiormente sul piano politico, di rappresentanza. Noi siamo una rappresentanza che fattura 140 miliardi. Non mi sto sbagliando, non è che ho sbagliato. 140 miliardi, incidiamo per l'8% del fatturato. Offriamo posto di lavoro a 385 mila persone. Abbiamo aumentato l'export del 75% negli ultimi dieci anni. Ma un po' focalizzandoci sui consumi, quindi i consumi interni sono forse un po' la maia nera della situazione mentre invece l'export, come diceva, a ottobre fa segnare dei buoni numeri. Che cosa chiedete in particolare al governo da questo punto di vista? Per i consumi interni non si può, quando piove prendersela con il governo. Credo che il governo non possa fare dei miracoli, anche se la nostra posizione è molto critica rispetto alle ultime scelte, soprattutto a dare denaro che non c'è. Noi al governo chiediamo la possibilità di essere aiutati per poter incrementare una cosa importante in questo paese, la ricchezza prodotta. Noi abbiamo bisogno di sostegno, è un sostegno anche politico, non solo di carattere economico. Diminuire il costo del lavoro e investire di più sulle infrastrutture e negli aiuti da un punto di vista degli investimenti sarebbe una grande cosa. Ne dubito perché non solo questo governo in generale, si è sempre fatto delle politiche a corto. La corte è sempre stata corta, nel senso che il problema è incassare il consenso immediato e poi il resto ci penseremo. Ma questo ci porta da nessuna parte. Importante anche riaffermare proprio la centralità delle associazioni di categoria. Oggi i rapporti sono a volte critici, a volte buoni, a volte meno buoni. Con l'esecutivo come si pone Federa Alimentaria in questo contesto? C'è stata un'apertura, bisogna vedere quanto questa apertura che è stata fatta nei confronti del sistema industriale, degli imprenditori, questa battuta che circolava, orribile, orribile, che siamo prenditori e non imprenditori. Noi siamo degli imprenditori che produce ricchezza. Poi la politica può contestarci come la distribuiamo o ci può imporre di distribuire in una certa maniera e è legittimo che la politica si occupi di ridistribuire meglio la ricchezza, ma la ricchezza la facciamo noi. Quando si dà lavoro a 385.000 persone è una responsabilità, credo, molto ma molto importante. Anche la classe imprenditoriale ha la nostra espada, noi ci dobbiamo far sentire di più. Veda, bisogna che cominciamo a parlare alla gente. Non è sufficiente fare un prodotto, venderlo, portarlo in tavola, girare il mondo. Noi abbiamo anche una responsabilità di carattere sociale, io credo. Io rispetto il ruolo della classe dirigente, però vogliamo essere rispettati anche noi. Se qualcun altro si azzarda a dire che noi siamo dei prenditori, io credo che abbia bisogno di una visita. In questo momento bisogna fare squadra per salvare questo paese.